Buongiorno a tutti, oggi eccolo qua, Peter Schneider, il saltatore del muro, scritto da un tedesco abitante a Berlino Ovest negli anni 80, quindi quando c'era il muro. La storia del muro, molti la conoscono, Berlino Ovest e Berlino Est erano separati, dagli anni 60 in poi, da un muro. E quindi c'era una strana situazione dove c'era questa Berlino Ovest che era un nucleo occidentale all'interno, proprio nel mezzo della Germania dell'Est. Repubblica democratica tedesca si chiamava la Germania dell'Est. E quindi come si poteva, questi cittadini occidentali, entrare e uscire dal muro? Per andare, che ne so, in Germania, in Francia, tornare in Germania, o in aereo, o attraverso tre corridoi autostradali fuori dai quali non si poteva uscire. I cittadini dell'Ovest potevano andare a Est, con il passaporto, con il visto, eccetera. Quelli dell'Est, con moltissima difficoltà, anzi era quasi impossibile ai cittadini dell'Est andare a Ovest. Questa è una situazione che ha creato dal punto di vista psicologico, ma non soltanto per i berlinesi, ma per tutta l'Europa, qualche cosa di molto strano. Famiglie separate, quando è stato costruito il muro. E' una situazione veramente, vorrei dire, tragicomica se il comico non fosse eccessivo. E questo libro parla di questa persona dell'Ovest che va spesso a Est, ha degli amici sia a Est che a Ovest. I due amici principali sono uno scrittore delle Germania dell'Est che vive a Berlino-Est e invece un ex abitante di Berlino-Est che è riuscito ad andare a Ovest. In questo romanzo ci sono molti racconti delle storie che i vari protagonisti si raccontano. Una di queste riguarda il saltatore del muro, cioè un tizio che andava di là saltando il muro e anche altri dei ragazzi che facevano il contrario da Est andavano a Ovest saltando il muro, approfittando di certi buchi nel controllo, peraltro strettissimo, che veniva fatto vicino al muro. Che non era solo un muro, ma aveva anche uno spazio che bisognava attraversare per poter poi saltare dall'altra parte del muro. Ecco, questo libro quindi è molto bello perché entra nella psicologia di questi abitanti della Berlino-Est e Ovest che vivono in situazione assolutamente strana, diversa da quella di qualsiasi altro abitante di una nazione che è compatta, che non ha città di altre nazioni, peraltro con sistemi politici, economici completamente diversi. E quindi si raccontano queste storie. Ci sono alcune cose che facciamo noi a capire, a comprendere. Un aspetto che il nostro autore Peter Schneider mette in evidenza, che secondo lui è importante, è il fatto che questi abitanti dell'Est e dell'Ovest cominciano a separarsi fra di loro e, come dire, perdono la capacità di ragionare al di fuori degli schemi che i loro stati e le loro nazioni impongono alle loro menti. Quindi si stanno allontanando pur essendo tedeschi. Prima quando uno dice di cosa sei, sei tedesco. Ma cosa vuol dire tedesco? Tedesco dell'Est, tedesco dell'Ovest. Ricordo che è stata separata la Germania dopo la guerra, come risultato, diciamo, degli accordi dopo la guerra. Quindi è tutta una situazione molto, molto, molto complessa. Io consiglio questo libro, suggerisco questo libro soprattutto alle persone che hanno conosciuto, o per sentito dire, oppure vissuto, comune, letto qualche cosa su quella che era la situazione. Oppure che sono andati a visitare Berlino prima che si riunificassero le due Germania. Io ricordo di esserci stato, sono stato a Berlino Ovest e sono andato anche a Berlino Oest e effettivamente, insomma, è difficile comprendere una situazione di questo genere. È anche difficile comprendere come si possono essere sentiti gli abitanti di Berlino Oest e di Berlino Ovest. Quindi, insomma, per chi in qualche modo vuole approfondire questo aspetto, visto da un abitante di Berlino Ovest, niente, questo libro è un ottimo libro, scritto appunto in quegli anni lì. Non è un libro sociologico, non è un saggio, è un romanzo scritto come i romanzi, con appunto tutte queste storie all'interno. Quindi io mi auguro che possa piacere e non mi resta che augurarvi buona lettura.